Gentili telespettatori, buona giornata agli italiani. Una parte degli italiani non riescono a pagare le bollette perché gli aumenti dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà gran parte degli italiani. Secondo un'indagine arte pubblicata dal Sole 24 Ore, a febbraio quasi 1 su 6 fatica a pagare le bollette con un incremento medio dei distacchi per morosità di oltre il 36% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Vi ricordo che in economia chi non paga almeno una bolletta al mese viene già considerato in povertà relativa. Chi non paga oltre due o più bollette al mese si comincia già a parlare di una povertà abbastanza seria, quindi da questo cominciamo a devincere che aumentano le situazioni di povertà relativa in Italia. Naturalmente chi non riesce a pagare una bolletta non si sente povero, perché nessuno si sente realmente povero, ma la realtà è ben diversa. Voi dite ma io mica sono povero perché aumenta la luce, ma se aumenta la luce ed è un qualcosa di necessario non la puoi pagare, vuol dire che sei in povertà relativa, non si scappa da questo. Così gli aumenti stanno mettendo in difficoltà famiglie e imprese. Quasi un cliente su 6, secondo un'indagine Arte che raggruppa i reseller e i trader di energia italiana e pubblicata su Sole24ore fatica a onorare il contratto di fornitura, con un incremento medio di distacchi per morosità di oltre il 36% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Arte stima che il valore delle forniture non pagate in Italia è passato da circa 17 milioni di euro di dicembre, pari al 10% del totale mensile, al 21,5% di gennaio, 13% del totale, fino a 26 milioni a febbraio, tradotto il 15,44% degli utenti non paga le bollette. Quindi 1 o 2 persone su 10 non pagano le bollette. Questo è un dato abbastanza incredibile. E siamo solo all'inizio, commenta Diego Pellegrino, portavoce dell'associazione, perché gli insoluti conteggiati in queste settimane sono da ricondurre i picchi del mese di dicembre. Ma a marzo il prezzo dell'energia, come noto, ha raggiunto nuovi massimi e le conseguenze di questa impennata le vedremo solo fra due mesi. Il problema di questo settore è che il consumatore non riesce ad avere una percezione immediata dall'aumento dei prezzi, come avviene per esempio con la benzina. Nessuno sta dicendo ai consumatori che a marzo le bollette sono aumentate del 10% rispetto a dicembre. In pochi ne hanno la consapevolezza. Noi piccoli trader siamo il termometro di una situazione che sta sfuggendo di mano a tutti e le conseguenze rischiano di essere devastanti. Come racconta oggi il Sole 24 Ore, che dà spazio anche in prima pagina al tema dimostrando che sia tutt'altro che marginale, i piccoli fornitori italiani stanno cercando di tamponare il fenomeno adottando dove possibile meccanismi per favorire il rientro dei pagamenti. Sono stati attivati 41.237 piani di rateizzazione e tra questi 41.237 non sono tutte aziende perché 24.597 piani di rateizzazione sono utenze domestiche. Ci sono debiti da 7-800 euro in media per le famiglie che salgono a 5.000 euro per le partite IVA e le piccole imprese. La rateizzazione è una modalità prevista dal decreto legge energia ma molte aziende davano l'opzione anche in passato. Non abbiamo mai vissuto una situazione del genere nemmeno durante il lockdown, spiega Pellegrino. Siamo già al limite, non riusciamo a reggere questo fabbisogno di circolante molte realtà di fornitura. Soprattutto quelle di una certa dimensione rischiano il default e siamo penalizzati dalla posizione all'interno della filiera. Nella fattura ci sono oneri vari come accise, spese di trasporto, di spacciamento che incassiamo e giriamo allo Stato. Servirebbe una deroga per tamponare la situazione, invece siamo costretti a pagamenti puntuali. Sono i piccoli che stanno puntellando la situazione. Il governo dovrebbe riconoscerlo invece di garantire rendite di posizione ad altri. certo che il 15% non paga le bollette con le bollette cresciute a dicembre. Adesso che le bollette sono salite di un ulteriore 10% naturalmente gli insoluti cresceranno. Ho sentito anche io parlare di bollette da 400 euro di luce, 800 euro. Ecco la media degli utenti domestici che non hanno pagato è un debito di 700-800 euro. Vuol dire che in alcune situazioni, in alcune case, all'improvviso la bolletta è arrivata a 700-800 euro. Ovviamente per poter pagare questi soldi o li prendi da quelli che hai da parte o devi avere uno stipendio veramente alto per poter pagare e togliere dallo stipendio del mese una bolletta di questo tipo. Pertanto realmente la situazione è abbastanza complicata e come dicono, realmente nessuno ha mai detto che la bolletta solo a marzo è cresciuta del 10%. Vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane se poi i prezzi scenderanno, se questa crisi internazionale passerà. Ma attenzione, non dobbiamo addebitare questo alla crisi internazionale perché l'aumento delle bollette era cominciato da luglio o prima dell'anno precedente. Oggi la crisi internazionale ha solo accentuato alcune cose, alcuni costi, ma era un trend che era già in atto da diverso tempo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, questo era l'ultimo video di oggi, poi ci vediamo a questo punto domani mattina. Grazie per avermi ascoltato, il canale ha quasi 204.000 iscritti, pertanto procede tutto per il meglio. Grazie a voi che vi iscrivete e guardate i video perché circa la metà delle visualizzazioni di questo canale arrivano dagli iscritti. C'è un'altra metà che arriva da persone che non sono iscritte. Bene, grazie a tutti, ci vediamo domani per altri video. Arrivederci e grazie.